Ciao, questo è Marco Re, da RL Audio, Italia. Facciamo unità professionali. Questi sono unità, unità di rack, preampi, chanel strifte, compressori e equilizzatori. Abbiamo una linea molto bella di moduli API 500. Abbiamo preampi, equilizzatori, compressori, unità di mida. Abbiamo una tecnica speciale, che possiamo imparare le unità di fronte. Quindi abbiamo bisogno di cambiare la connessione in fronte. Poi miglioriamo questa tecnologia verso i moduli Eurorack. Abbiamo un mixaggio molto piccolo e compatto. Il mixaggio è un mixaggio di 8-channel, con una funzione solo in place, un pan pot, un livello per la lefta e la right, un monitor output con un amplificatore di headphone, inserito su la lefta e la right. E, molto importante, usiamo i trasformerci all'output, così che possiamo non balanzare senza problemi, con lupi di grado e così via. Poi abbiamo una unità molto bella, con una unità, il nome è MUTE. Quindi possiamo MUTE BOTH ODIO E CONTROL VOLTEGES E ODIO UNITS e cambiare il livello qui. Poi abbiamo due prodotti di power, molto bene in termini di power, quindi 3 amperi per il plus 12, 1.5 amperi per il plus, 5 amperi per il plus, 5 amperi per il minus 12. La cosa bella è che puoi controllare il corrento sui tre ruoli, solo selezionando il ruolo qui e puoi controllare quanto il corrento è assorbato. Poi puoi usare questo conneccio, un tradizionale RJ conneccio, per estendere il power bus a un altro EURRAC modulo. Questa unità è la stessa, ma non è possibile controllare il corrento e per estendere il bus. Quindi abbiamo anche un'unità di controllo che puoi cambiare la stereo immagine usando controllo e anche un stereo qualificatore. Grazie a tutti!